Ciao a tutti, ieri abbiamo avuto l'audizione del Presidente di Bologna Fiere Boni come richiesto e ottenuto dal Movimento 5 Stelle. In questa occasione abbiamo fatto diverse domande al Presidente e non abbiamo praticamente ricevuto risposta, però in questa occasione si è sviluppato un vergognoso teatrino tra due esponenti del Partito Democratico. Guardate insieme a noi che cosa è successo. Mi viene da sorridere, cioè il pubblico in una trattativa di questo, di così com'è, da che parte siede nella situazione che lei ha messo il pubblico. Io so come pubblico da che parte sedermi, dalla parte dei lavoratori. Quindi non è che io mi dimentichi di che cosa sto parlando, ce le ho tutte. Quindi anch'io mi siedo dalla parte dei lavoratori per trovare delle soluzioni occupazionali. Queste sono le testuali parole. Per trovare le soluzioni occupazionali. Nessuno deve stare a casa. Come avete visto questo scontro è l'emblema dell'imbarazzo e dell'incompetenza del Partito Democratico. Imbarazzo perché, come ci ha confermato Boni, soci pubblici e soci privati erano a conoscenza del piano lacrime e sangue. Quindi Comune e Regione sapevano e non hanno fatto niente per fermarlo. Incompetenza perché i presidenti di Bologna Fiere sono da sempre nominati dai soci pubblici. Quindi dal Partito Democratico che ha nominato persone incapaci di gestire la nostra fiera e le hanno sempre protette. Dall'altra parte il Movimento 5 Stelle ha denunciato sin dall'inizio questa situazione. Stiamo cercando in tutti i modi di tutelare questi 123 lavoratori incolpevoli e obbligheremo alla prossima assemblea, al Partito Democratico, a votare la nostra risoluzione che chiede in maniera chiara e netta il ritiro dei 123 licenziamenti, della procedura di licenziamento. E chiediamo al Partito Democratico di prendere un impegno serio anziché continuare a lanciare parole al vento. Grazie. Grazie.